Ben ritrovati a tutti ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Dall'Europa occidentale si rinforza un campo di alta pressione che raggiunge quindi il nostro territorio, apportando per l'avvio della nuova settimana condizioni di bel tempo e assoluta stabilità atmosferica. Il tutto accompagnato anche da un generale rialzo delle temperature massime, mentre al primo mattino continuerà a fare freddo con anche delle gelate al nord e nelle zone interne del centro. Continuerà a soffiare anche il vento abbastanza sostenuto dai quadranti settentrionali, specie al sud. Con questo per il momento è tutto, dettagli maggiori scaricando e consultando l'app di Trevi Meteo.